Non è durato neanche un mese l'idillio tra la Turchia e Moody's, che a maggio l'aveva promossa. Questo lunedì la Borsa di Istanbul ha perso quasi due punti e mezzo percentuali dopo che l'agenzia di rating ha lanciato un chiaro avvertimento. Il protrarsi delle proteste di piazza potrebbe pesare sul giudizio di credito del paese. Il principale indice azionario, il Borsa Istanbul 100, ha perso ormai 19 punti percentuali dall'inizio delle proteste a fine maggio. Il premier Erdogan, che domenica aveva avvertito i manifestanti, si è scagliato anche contro la speculazione internazionale. A voi che provate ad affondare la Borsa, ha detto, sarete voi a crollare. Non è bastato però l'invito esteso ai cittadini ad investire denaro in obbligazioni, piuttosto che tenerlo in banca. I rendimenti dei bond biennali, cioè la percezione del rischio, viaggiano oltre il 6%, mentre la lira turca ha perso ancora terreno rispetto a dollaro ed euro.